Allora io direi a tutte queste persone che sono contrarie di rispettare il lavoro dei professionisti che hanno firmato il progetto e se ne prendono la responsabilità al contrario di chi parla solo. Il progetto è stato rivisto più volte. Ora basta. Walter Durpetti, presidente protempore del comitato Arzilla e rappresentante della piattaforma solidale delle persone portatrici di handicap, oggi interviene sul progetto già paltato della ciclo pedonale dell'Arzilla. Durpetti precisa che la pista attuale risale al 1995 e che è stretta, interrabattuta, fangosa e scivolosa se bagnata. L'opera è attesa da decenni e proseguito e il tragitto diventerà la parte finale della ciclovia Fano-Mombaroccio. Dunque va rispettata la legge nazionale 2 del 2018, secondo la quale il passaggio deve essere a doppio senso per le biciclette, sicuro e agevole per tutti, comprese le persone che hanno un problema di deambulazione, ma non solo. Aumentare il flusso dei frequentatori in un budello non c'è sicurezza e se si incrociano bici, pedoni, persone in carrozzella ora hanno enormi difficoltà a passare. Non è vero che si fa strage di alberi, se ne possono ripiantare il doppio, il triplo. Il filare di Pioppi in riva alla destra ha almeno 30 anni di vita. In origine erano una cinquantina, ora sono una trentina e alcuni di questi sono diventati a fine vita. Il tratto finale della pista è artificiale, ha poi dichiarato Durpetti ed è fatto con le cestonate che neanche si notano. Flora e fauna non verranno disturbate, ha aggiunto il presidente. Di certo quello che cambierà e in meglio sarà la sicurezza. Quando parlo di sicurezza parlo anche della sicurezza dei giovani per la movida, per entrare a Fano, per mandare i nostri figli piccoli in sicurezza, dove è l'unico punto per andare al mare che si attraversa la strada, non attraversando la strada ma passando per la ciclovia. A dire la sua è anche Francesca Busca dell'Associazione Genitori e Figli per l'Inclusione che lo scorso anno aveva fatto una mappatura delle barriere architettoniche nel territorio fanese. Anche la disabilità più grave ha diritto a permettersi uno svago, quindi anche una persona che è su una carrozzina elettrica necessita di avere l'opportunità di farsi una passeggiata. Quindi bisogna creare tutte le condizioni perché questo sia possibile. Quindi come in centro storico, dove già la scorsa settimana, sempre insieme a Piattaforma Solidale, abbiamo evidenziato che ci sono degli spazi veramente inaccessibili, anche lungo il torrente Erzilla, visto che è prevista questa pista ciclabile, ciclopedonale, è giusto che tutte le persone possano vivere il proprio tempo libero nella modalità giusta e accessibile. A favore dell'attuale progetto è anche un appassionato di cicloturismo e facente parte dell'Associazione Forbici. Dispiace che appunto ci sia questi continui contestazioni e blocchi per un discorso ambientale, però ritengo che l'ambiente è anche far sì che la gente inquini meno con le macchine, non intasi le strade e i parcheggi con le macchine. In questo tratto la sicurezza è necessaria e viene risolta in qualche maniera facendo un fondo adeguato, l'illuminazione che oggi non c'è e che quindi anche noi abitanti qui del quartiere, soprattutto nel periodo invernale, dalle 5 in poi del pomeriggio è buio, si fa fatica a viaggiare in sicurezza perché ci sono buche, ci sono avvallamenti, quando piove ci sono pozzanghere, quindi veniva in qualche maniera risolta e andava incontro a quelle che sono le esigenze minime per avere una buona ciclabilità a Fano. Il mio parere è positivo.